victorinox con questo articolo si è giudicato un voto finale di 9.6 su 10 per questa categoria risulta al momento essere il più votato con 2066 valutazioni globali ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono versatilità ottimo rapporto qualità prezzo comodo leggero il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video la votazione finale assegnata a questo prodotto di victorinox è di 9.4 voti su 10 è il più scontato di questa selezione le sue peculiarità sono comodo robustezza ottimo rapporto qualità prezzo se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video questo articolo di victorinox ha riscontrato una valutazione di 9.6 su 10 totali in questa selezione risulta essere il migliore le caratteristiche principali sono robustezza versatilità ottimo rapporto qualità prezzo comodo leggero se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video victorinox ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9.4 su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo i suoi punti di forza sono comodo leggero ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video questo prodotto realizzato da victorinox ha conquistato una votazione di 9.4 su 10 punti totali risulta essere al momento il prodotto più regalato le sue qualità sono stile robustezza comodo ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto il voto complessivo assegnato a questo articolo di orsifov è di 8.8 su 10 risulta il più venduto le sue funzionalità sono ottimo rapporto qualità prezzo versatilità robustezza comodo leggero se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti